Vivere il vostro viaggio a Roma, immersi nei colori, nei suoni e nella magica realtà della città eterna, vivere nel cuore di Trastevere, il rione romano più famoso e caratteristico, ad un passo dall'isola tiberina, da piazza San Pietro, dal centro barocco e rinascimentale della città. Ora potete rendere la vostra vacanza un viaggio speciale e travolgente, scegliendo l'ospitalità calda e raffinata del Trastevere Relais, un bed and breakfast di lusso, perla incredibile, scovata tra i meravigliosi vicoli trasteverini. Questo è lo scorcio più caratteristico dell'appartamento, ho scelto con cura ogni particolare. Questa è la nostra camera singola, con un comodo letto alla francese ed è particolarmente indicata per chi si trova a Roma per lavoro. Questo è il salottino della suite, nel quale sono stati sistemati altri due letti. Ogni mattina per i nostri ospiti una ricca colazione all'italiana. Possiamo andare a prendere i nostri ospiti all'aeroporto o alla stazione, possiamo assicurare un servizio di babysitting, possiamo organizzare pranzi e cene su prenotazione, cerchiamo di soddisfare al massimo le esigenze dei nostri ospiti per rendere più confortevole questo soggiorno a Roma. Tutte le nostre stanze sono dotate di climatizzatore, tv satellitare, frigo bar e cassetta di sicurezza ed hanno il bagno interno con box, doccia, idromessaggio e cromoterapia. Grazie a tutti!